Beh è proprio un classico, dopo la tempesta torna la quiete, dopo il tempo tempestoso, la pioggia, il vento ed anche la neve sul nostro appennino torna il sereno, tornano le giornate soleggiate e questo accadrà proprio durante il corso del weekend. Sia sabato che domenica alta pressione, di conseguenza due belle giornate, cieli in prevalenza sereni, venti, assenti o deboli, mari calmi o poco mossi, occhio alla formazione di qualche nebbia, notte e tempo e dal primo mattino nelle conche e valli interne. Temperature, ecco forse l'aspetto più importante da segnalare sono proprio le temperature, perché? Perché nella giornata di sabato saranno in generale diminuzioni sensibili, cruenta questa diminuzione nei valori minimi, gelate diffuse, occhio alla colonnina di mercurio, sugli altopiani potremmo scendere al di sotto del meno 10, attorno ai meno 15, localmente non si esclude anche qualche picco estremo verso attorno ai meno 20, dipenderà molto dal vento, dalla calma di vento, ma comunque avremo gelate diffuse in tutto l'Abruzzo già dalle basse quote. Domenica le temperature massime torneranno un pochino ad aumentare, ma le minime rimarranno stazionari o anche in ulteriore lieve diminuzione. Insomma sarà un weekend di bel tempo, ma con temperature minime glaciali potremmo dire e massime direi tutto sommato, anche gradevoli e in linea con il periodo.